Buonasera a tutti e benvenuti. Donald Trump si sta divertendo davvero un sacco, lo dimostra, lo manifesta, sorride, fa le battutine, c'è una certa malizia, c'è una certa dose di sfrontatagine che comunque accomuna da sempre la personalità di questo esimio Presidente degli Stati Uniti, ma dicevo se la ride un mondo perché si troverà fra poco un po' a decidere se il suo antagonista sarà Joe o Bernie, Joe Biden, Bernie Sanders, Joe Biden il moderato democratico amico di determinate lobby, forse così uomo del ragionamento anche politico economico trasversale e Bernie Sanders che ha un po' rispolverato il termine socialista che una volta era considerato come il termine stalinista una provocazione, un'affermazione da carcere, da processo, i comunisti e tutto quello che gli Stati Uniti hanno passato e che porta con sé una massa importante di disadattati, persone che comunque sono in condizioni di difficoltà economiche, una forte tutela di certi diritti, una certa socialità e lui comunque se la ride perché o l'uno o l'altro saranno gli antagonisti a novembre per il rinnovo della presidenza degli Stati Uniti. Ora c'è un po' un immaginario collettivo che poi non è così ma lo percepiamo forse in questo modo anche perché abbiamo un po' tutti l'impressione che quando i democratici governino sembrino quasi spendere di più rispetto magari ai repubblicani che fanno la stessa cosa ma chissà perché abbiamo sempre questa idea forse per queste istanze, per queste richieste, sto parlando magari della sanità pubblica, di programmi, di sfaccettature economiche, sociali, così, questo è un po' l'immaginario ma al di là di questo e di quello che possiamo sentire, ripeto ma è una percezione, la forza dell'elettorato democratico in ogni caso rispetto all'elettorato repubblicano è sicuramente e sarà sicuramente il fatto che i democratici sono di più vanno a votare in numero maggiore e quindi il fatto di poterli magari compattare per queste elezioni potrebbe essere la soluzione vincente per Joe Biden o Bernie Sanders. Ecco, dicevo, sono in lotta anche tra di loro Biden e Sanders e non se ne sono risparmiate assolutamente, ripeto, da una parte un Joe Biden più vicino a un establishment capitalista, un Bernie Sanders più vicino alle masse dei giovani sfruttati, questo ascensore sociale dove vanno su in pochi e sono quelli ricchi, scendono in tantissimo e sono tutti quelli disadattati. Però anche questo, anche questo lo si vedrà nelle prossime elezioni. Aspettiamoci come sempre una sorta di macelleria politico-elettorale, tipica forse anche delle elezioni americane perché troveremo e sentiremo sicuramente insulti di ogni genere personali l'uno nei confronti dell'altro, quindi non vi è solo l'insulto o la denigrazione del partito ma come sempre nelle elezioni politiche americane ed è la verità. Noi su questo facciamo anche noi delle elezioni o delle polemiche poco simpatiche o ci stiamo un po' avvicinando a quella macelleria politica nordamericana tipica degli Stati Uniti dove vengono tirati in ballo il partito, come ho detto, però anche il privato, però anche i figli, però anche le mogli, però anche i parenti in generale, una serie di menzogne varie, una serie di promesse per le masse di tagli, di tasse, di ripresa eccetera eccetera. Poi ci metteremo e ci saranno in mezzo ancora i russi che potranno condizionare o meno la politica americana e poi si tirerà in ballo sempre con una certa cautela per l'uno Per l'altra parte i diritti dei gay, i diritti delle donne, i diritti dei neri e tutto quello che ne segue Sarà un confronto diretto sicuramente pesante. Se sarà Biden l'antagonista aspettiamoci le solite polemiche riguardo all'Ucraina e se sarà invece Sanders aspettiamoci un ragionamento legato all'opseudo comunismo, stalinismo, socialismo eccetera. Ne vedremo davvero delle belle o delle brutte per quelle che sono le premesse che vi ho fatto. Grazie